Salve ragazzi, in questo video mi distaccherò dall'argomento Tokyo Ghoul e tratterò di alcune informazioni, inerenti all'ultimo OAD di Kamisama Kiss, più una notizia riguardante l'uscita del prossimo volume manga qui in Italia. Innanzitutto vi informo che questo episodio speciale durerà 30 minuti, avendo come protagonisti Nanami, Kurama, Tomoe e Mitsuki, nel momento del diploma, aggiungendo anche che tale OAD ricoprirà dal capitolo 142 al 149, nel quale avverrà il tanto atteso matrimonio tra Tomoe e Nanami. In un primo momento, il titolo della puntata era Kamisama, che con Zenia, che in italiano significa, la dea alla vigilia delle nozze, ma poi è stato cambiato in Kamisama, Shagwaseninaru, che in italiano vuole dire la dea sarà felice. La puntata andrà in onda il 20 dicembre di quest'anno e sarà legata ad un fanbook detto Kamisama, a Jime Mashta 25, 5, che conterrà un capitolo extra di 32 pagine detto Sono Ata No Futari, ossia loro due in seguito, che parlerà di ciò che succederà a Tomoe e Nanami, più un riassunto dei volumi dal 14 al 25 e un'intervista all'autrice della serie Yulietta Suzuki. Come ultima cosa ci tengo a dire che questo OAD, concluderà definitivamente la serie di Kamisama Kiss e nel frattempo che arriverà, vi lascio alcune immagini dell'ultima puntata. Ora passo alla notizia sull'uscita del prossimo volume di Kamisama Kiss in Italia. Sicuramente starete aspettando da un po' di tempo il ventesimo volume, però comincio subito a dirvi che in questi mesi non arriverà, perché in passato avevo domandato a Star Comics, quando sarebbe giunto il volume di Kamisama Jime Mashta e mi ha risposto che uscirà l'11 gennaio del 2017, quindi purtroppo non arriverà prima della fine dell'anno, però il lato positivo è che adesso sapete la data di uscita del volume 20. Con questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video.